Come manipoliamo in pratica in JavaScript questo DOM? Abbiamo una serie di metodi per farlo. Vediamoli brevemente. getElementById ci restituisce il nodo, il cui, quindi l'elemento, HTML, il cui attributo id è uguale al valore, riportato in parentesi. Notate getElement singolare, perché ovviamente in una pagina HTML un solo elemento può avere un certo id. Se voi aveste due elementi con lo stesso id, due tag HTML con lo stesso id, che è sbagliato in HTML, questo metodo vi restituirebbe solo il primo che trova. Tutti gli altri, getElementByTagName, getElementsByClassName, eccetera, tornano una lista di nodi o un sottinsieme della lista di nodi. E spesso è indicato da questa S plurale o da elementi tipo all. getElementsByTagName ritorna un nodelist, quindi un oggetto JavaScript di tipo nodelist, con all'interno tutti gli elementi con un certo tag. Quindi getElementsByTagNameDiv ritorna tutti i tag div di una certa pagina. getElementsByClassName, nome, ritorna tutti gli elementi di quella pagina che hanno quella classe, quindi classe uguale a qualcosa. querySelector ritorna il primo nodo che fa il match con questo sintassi da selettore. E questo sintassi da selettore è la stessa sintassi da selettore che usiamo nel CSS. querySelectorAll non restituisce il primo nodo, ma tutti gli elementi che hanno un match con questa sintassi CSS. querySelectorAll non restituirà il nodo, unico in questo caso, che ha come selettore il cancelletto quel nodo, dove il cancelletto è uno solo e sarà unico perché di nuovo è un ID. Proviamolo. Allora, noi ricarichiamo questa pagina così il console si svuota. Noi sappiamo, per esempio, che in questo, che qui abbiamo un ID con ID Nubbar. Quindi document.getElementById. Vedete che ce ne sono di più di quelli che ho indicato io, però, ovviamente, usiamo, quelli nelle slavie sono i principali, getElementById e mettiamo Nubbar, che è l'ID di questo header. Quindi, eseguendo questo codice, ci aspettiamo di trovare questa e solo questa istruzione. Vedete questo elemento, vedete che in effetti abbiamo un elemento che è esattamente questo, ed è un nodo singolo, che ha i suoi, ovviamente, con tutto quello che ha il suo interno. Se facciamo document.getElementByClassName, e vediamo se c'è qualche classe comune, per esempio container, sembra una classe comune, container, vedete che Chrome inizia a suggerire il possibile risultato. Quando premiamo invio, otteniamo questa node list, che in questo caso è un HTML collection, perché è una lista di elementi, che è di 6, lunga 6, che ha appunto 6 elementi al suo interno. E aprendo questa lista, vedete che ci sono questi 6 elementi, e aprendo ogni elemento, ci sono le singole proprietà di ogni elemento. Inclusi gli attributi, inclusi se c'è una URL, inclusi se ha dei nodi figli, e quali sono? Quindi quel primo aveva un nodo figlio che era un altro div, quindi all'interno c'è un altro div, con questa classe, e il suo fratello è un altro div con quest'altra classe, e così via. Il nome della classe è container, anche altre proprietà, l'altezza, l'altezza dell'altezza, qual è il primo figlio, qual è il primo figlio di tipo elemento, che in questo caso coincidono, se c'è un HTML interno, qual è? Quindi quello che noi leggiamo, se lo guardassimo qui sopra, quindi il fatto che all'interno ci sia un div, con una classe, con dentro un'altra A, quindi in maniera testuale, qual è l'HTML interno, e così via. E se noi facessimo di nuovo document.get query selector di, per esempio, nabba, col cancelletto, quindi un id, quindi facciamo una query nel documento, selezionando tutti gli elementi, l'elemento, il primo elemento, in questo caso l'unico elemento HTML che ha come id navbar, l'equivalente, otteniamo ovviamente la stessa risposta che abbiamo ottenuto, fatemi andare su e chiudere questo, la stessa risposta che abbiamo ottenuto con element by id, proprio perché queste due hanno due sintassi diverse, ma vogliono dire la stessa cosa, in quanto questo è il selettore per recuperare l'id. Questi di sopra sono elementi, sono query selector, sono metodi per cercare nodi, funzionano ovviamente anche con gli elementi, l'abbiamo visto nell'esempio, però cercano, nel caso degli elementi HTML, solo gli elementi discendenti, quindi possono essere utilizzati per rifinire una ricerca. Non partono solo da document, ma ovviamente da un certo punto in poi, quindi da body in giù, da un certo div in giù, non in su, quando si applicano ad elementi HTML. Quando non si applicano ad elementi HTML, ovviamente stiamo parlando di attributi, di testo, di comment, di document type, oppure di document che è la root di tutto. Quindi noi possiamo scrivere document.getelement, ma possiamo anche scrivere qualcosa recuperato dal div.getelement. Quindi proviamo, per esempio potremmo scrivere let variabile uguale document.get query selector, sperando che poi la navbar abbia qualcosa di furbo al suo interno, a questo punto variabile ha al suo interno ovviamente leder, se noi andiamo a dire variabile punto get elements by class name container, quindi tutti gli elementi interni a variabile, interni a leder che hanno come classe container, dovremmo ottenere una collezione, perché è una collezione di un solo elemento ovviamente, ma una lista, un node list di un solo elemento, perché ovviamente possono esserci più classi, ma qui c'è una sola, che all'interno è esattamente questo div container che è qui dentro. E questa ricerca di get element by class name, vedete, è applicata a partire da header, e quindi riguarda solo questo pezzo qua, questa porzione di HTML. Mentre prima, quando l'abbiamo fatta su container, abbiamo trovato molti più appunti elementi, proprio perché abbiamo navigato l'intera pagina, non solo una porzione. Questo è praticamente un esempio diverso rispetto a quello che vi ho appena fatto, vedete che per esempio col query selector all possiamo anche passare, non solo, possiamo parlare di un selettore anche compositi, esattamente come faremo in CSS, quindi punto bold, virgola punto color. Come in CSS scriveremo punto bold, virgola punto color, aperta graffa colore giallo, qui possiamo usare lo stesso tipo di selettore per accedere. Ci sono, oltre a delle proprietà di questo tipo, per recuperare elementi specifici per ID, per classi, eccetera, anche proprietà per navigare l'albero. Quindi partendo da un certo nodo, potrebbe essere il nostro header nell'esempio, possiamo chiedere qual è il nodo genitore, e quindi da questo salire di un livello. Oppure possiamo chiedere qual è il fratello, diciamo, che viene subito dopo nell'albero del domo, oppure quello che viene subito prima. Oppure possiamo avere tutti i figli di questo nodo, oppure solo il primo figlio o solo l'ultimo figlio. Quindi ci sono metodi, una volta che abbiamo individuato un nodo, possiamo chiedere quali sono i suoi parenti, diciamo, più stretti. Per esempio, se noi facciamo variabile.parentNode, vedete, non è un metodo, variabile.parentNode dice che il genitore di header, in questo caso, era body. E se noi andiamo a controllare questo header, vedete, questi sono tutti fratelli e l'unico genitore di header è body. Quindi questi metodi ci servono appunto, queste proprietà, in questo caso, non ha le parentesi, ci serve appunto per andare, navigare, una volta che abbiamo trovato un elemento che ci interessa, navigare i suoi figli, il suo padre, i suoi fratelli, diciamo tutti questi in parallelo e così via. Ci sono anche proprietà analoghe per navigare gli elementi e non solo i nodi. Quindi c'è parentElement per accedere all'elemento padre, next e previousElementSibling per accedere al fratello, children per accedere a tutti i figli di questo elemento, firstElementChild e lastElementChild per accedere ai figli, al primo e all'ultimo figlio. ovviamente gli elementi non includono i nodi che non sono di tipo HTML, quindi non include il nodo testo, per esempio, o non include il nodo attributo. Quindi nel nostro caso non sarebbe cambiato niente, perché sia header nel nostro esempio, sia header che body, sono due elementi HTML, ma se per esempio fossimo arrivati a un nodo che all'interno aveva del testo e avessimo detto primo nodo figlio, avremmo ottenuto il testo, perché al suo interno c'era del testo. Se diciamo primo elemento figlio, non otteniamo invece niente, perché il testo non è un elemento HTML, ma è un nodo di tipo testo. Negli altri casi, quando gli elementi, quando stiamo lavorando con elementi HTML che non sono di altro tipo nodo, i metodi parentElement o parentNode sono ovviamente equivalenti. Non funzionano questi, questi non funzionano ovviamente quando in mezzo ci sono degli elementi, dei nodi che non sono elementi HTML, ma sono nodi di altro tipo. Gli attributi degli elementi HTML possono essere utilizzati come se fossero proprietà del DOM. Quindi se noi abbiamo un body che ha un ID che si chiama page e noi volessimo recuperare questo, potremmo scrivere document.buddy.id. Quindi document è il nostro intero documento, body va a prendere il tag body, in questo caso ce n'è uno solo, .id ci dà l'ID di questo elemento. Se noi proviamo con il nostro variable, facciamo variabile.id, non mi ricordo, sì ce l'ha, vedete che variabile.id è navbar. Quindi questo stesso elemento ID diventa navbar. Noi dovremmo poter fare anche header.class, se non ricordo male, scusa, variabile.class, in questo caso classlist, non esiste class unico, ma classlist, che ritorna una lista con tutte le classi di questa variabile, di header, e anche dovrebbe esistere un variabile .roll, visto che era definì, proviamo solo roll, ma forse bisogna dire area roll description, no, variabile.roll, no, variabile.roll non si riesce a prendere così, vedete che ha un call roll banner, probabilmente è un area qualcosa, adesso mi sfugge, variabile.area, dovrebbe essere area roll description, va bene, e comunque, gli elementi diventano anche, si possono accedere anche come variabili, per esempio classlist, per esempio ID, come ID, ovviamente con i loro sintassi, non possiamo scrivere variable.class, perché class è una parola riservata in JavaScript per identificare le classi, vere e proprie, e quindi in questo caso diventa classlist. ID non è una parola riservata e quindi possiamo utilizzarla tranquillamente, hanno deciso di utilizzarla così com'era. Un altro esempio, se abbiamo un input con l'attributo checked, possiamo dire input.checked e ci dirà se è stato, ci darà un risultato vero o falso. In questo modo si può leggere il contenuto di questi attributi, ma si può anche con il metodo setAttribute, quindi setAttribute, ID, qualcosa, e settare un nuovo valore a questi attributi. E quali sono i metodi che ci permettono di agire sugli attributi? Dato un elemento HTML, ovviamente. AsAttribute, qualcosa, verifica l'esistenza di questo attributo. GetAttribute prende il valore dell'attributo, quindi il nostro variabile.getAttributeRoll, forse in questo caso potrebbe funzionare così, variabile.getAttributeRoll, vedete che in questo caso ci risuisce banner, perché è esattamente il contenuto di questo attributo, perché roll è un attributo non standard, non noto, non comune come nonno standard, è un attributo valido e standard, ma non standardizzato diciamo a livello di DOM, dovrebbe essere in quel getAreaRoll, ma probabilmente la description è diversa. setAttribute per impostare un attributo, qualunque, anche che non esiste, remove per cancellarlo, element.attributes, una lista di tutti gli attributi, element.matches, un selettore CSS, controlla, restituisce vero o falso, in base al fatto che l'elemento, il nostro variabile per esempio, abbia un match o meno con quel selettore CSS. Allo stesso modo possiamo anche creare elementi o creare nodi. Per esempio, createElementTag ci permette di creare un nuovo tag all'interno della pagina, all'interno del document. createTextNode text ci crea un nodo di tipo testo, non un elemento HTML, con un certo testo. Per esempio, se noi eseguiamo questo codice, otteniamo questo risultato. Quindi, da document, creiamo un elemento che è un div, quindi creiamo questo. A questo div diamo una certa class name, queste due classi, quindi class, alert e alertSuccess, e poi diciamo che a questo div che abbiamo creato, aggiungiamo anche un innerText che è questo. E a quel punto inseriamo anche un testo. createTextNode crea un nodo intero con il testo, il div e quasi tutti, molti altri elementi hanno una proprietà innerText, quindi gli elementi che accettano il loro interno del testo, il div è uno di questi, gli elementi A è uno di questo, la P è uno di questo, span è uno di questo, e quant'altro. Quindi tutti gli elementi che accettano test al loro interno in HTML hanno questa proprietà innerText che è il testo interno al tag, che è proprio testo, quindi potete indicare quale testo da JavaScript aggiungere. quindi potesse partire da un documento HTML senza queste tre righe e in JavaScript aggiungerle. Una volta che l'abbiamo creato però, in realtà qui non l'abbiamo ancora aggiunto alla pagina, abbiamo solo creato questo con queste tre righe di codice, dobbiamo poi aggiungerlo, altrimenti non appare. quindi per aggiungere un elemento, un nodo, basta dire createElement e impostare le proprietà che vogliamo impostare. A questo punto abbiamo creato, ma il browser non sa ancora che deve visualizzarlo e quindi dobbiamo dirgli aggiungilo e dobbiamo dirgli dove vogliamo aggiungerlo. Allora, per esempio, col metodo appendChild, dove questo div è quello che abbiamo creato prima, appendChildArrBody, questo metodo cosa fa? aggiunge un figlio all'elemento body, quindi subito nel body aggiungerà l'elemento div che abbiamo appena creato. Altri metodi per aggiungere questi figli sono, oltre alla appendChild, l'insertBefore, quindi aggiunge un certo nodo, un certo elemento prima di qualcos'altro, oppure rimpiazza un certo nodo, un certo figlio con un altro, oppure aggiungi, aggiungi in coda tutti, tanti nodi, prependi, o aggiungi prima, aggiungi subito dopo, o rimpiazza con uno o più nodi. E vedete che qui ci sono una serie di esempi. Il before, vedete, è, se aggiungiamo un nodo, l'aggiungiamo prima di questo ol, se facciamo nod.before, dove ol.before vuol dire aggiungiamolo prima, nod.after e aggiungiamolo dopo, quindi questi agiscono sui figli, questi agiscono sugli altri, sui parenti, quindi, non sui figli, quindi sui fratelli, in un certo senso possiamo dire. Quindi prima lo aggiungiamo prima di questo nodo, dopo lo aggiungiamo dopo questo intero nodo, prepend lo mettiamo subito all'interno, come primo figlio, in un certo senso, append lo mettiamo in fondo proprio prima della chiusura del nodo in questione, non importa cosa ci sia dentro. In HTML, l'abbiamo visto prima nel nostro esempio, ci permette di prendere o impostare del contenuto di un elemento in forma testuale, non testuale nel senso di testo libero, ma testuale nel senso che ci permette di impostare dato un nodo, di leggere dato un nodo, qual è il formato testuale dell'HTML contenuto in quel nodo. E quindi invece di per esempio creare un elemento in questo modo, noi potremmo scrivere body.innerHTML uguale aperta graffa div spazio class uguale aperte virgolette eccetera. Quindi scrivere questo come se fosse testo. E questo innerHTML imposta questo testo che è un HTML valido all'interno dell'elemento che vogliamo. e allo stesso modo innerHTML ci permette di leggere il testo dell'HTML che è interno a una certa elementa. Quindi div.inR element dove div è questo è una variabile che contiene tutto questo oggetto tutto questo elemento l'innerHTML di questo div è solo questa riga che ci viene riportata in forma testuale. Come dicevo si può anche inserire quindi rimpiazzo quindi div.inR element uguale uguale ciao rimpiazzerebbe questo strong hider eccetera con ciao. Oltre a inserire internamente possiamo anche inserire adiacente quindi a lato sempre HTML con delle modalità before begin esattamente come era il before di prima after begin quindi subito dopo all'interno del tag after end all'esterno del tag appena si chiude before end subito all'interno e specificando ovviamente quindi prima il dove e poi il nodo HTML da inserire allo stesso modo abbiamo anche l'insert adiacente text che non accetta solo codice HTML in formato testuale ma accetta del testo vero e proprio oppure element che invece dell'HTML in formato testuale vuole un elemento una variabile che contiene un elemento HTML valido oltre a modificarli possiamo anche duplicare clonare dei nodi con il metodo cloneNode cloneNode è un metodo che ha una sola variabile una sola parametro che è vero o falso se è vero copia recursivamente tutto l'elemento quindi in questo caso copierebbe il div ma copierebbe anche i suoi figli e i figli dei figli eccetera se è false copierebbe solo l'elemento padre quindi non i figli ed è ovviamente cloneNode è un metodo utile per replicare alcune parti del documento in codice abbiamo una certa lista la vogliamo duplicare in codice da un'altra parte magari cambiare qualcosa prima la duplichiamo e poi cambiamo qualcosa che ci sono Grazie.